Benvenuti su Quari di Tenebre True Crimes, sono Claudia. Oggi vi porto un caso accaduto a Singapore il 3 gennaio del 2020, quindi questo caso fa parte della playlist True Crime Asia. Il 3 gennaio del 2020, Paul Leslie Quirk, di 48 anni, ucciderà la moglie Christina Coe, di 43, poiché pensava che lei fosse un demone. Dopodiché ucciderà anche il cane della coppia, un volpino di pomerania di 10 mesi, pensando che fosse anche lui un demone che si accompagnava a quello della moglie e nel caso non fosse stato ucciso anch'esso, l'altro demone sarebbe potuto tornare in vita. Paul era nato in Australia nel 1972 ed aveva frequentato l'università a Melbourne, dove poi si era specializzato in podologia, quindi si prendeva cura della salute del piede, della caviglia, insomma della parte inferiore della gamba. Nel 2001, dopo il divorzio, Paul aveva passato un brutto periodo nella sua vita e gli verrà diagnosticata una depressione. Gli furono prescritti dei medicinali che doveva assumere regolarmente per evitare che i sintomi peggiorassero. Però negli anni seguenti la sua condizione si aggraverà e lo porterà a avere una serie di emozioni altalenanti. Alle volte le sue condizioni peggioravano a tal punto di fargli sentire delle voci che gli parlavano. Gli dicevano che il mondo andava salvato e che lui era l'unico in grado di farlo. Alle volte invece aveva delle allucinazioni visive. Le voci che sentiva lo convinsero che per salvare il mondo lui avrebbe dovuto uccidersi tanto che tenterà per ben due volte il suicidio ma verrà salvato. Passerà gli anni seguenti a combattere la sua malattia facendo avanti e indietro con gli studi medici. Tuttavia ormai i suoi disturbi erano diventati proprio psichiatrici e probabilmente anche perché non assumeva regolarmente i farmaci. Paul viveva in una sorta di dualità. La mattina visitava i suoi pazienti ma quando era solo soffriva dei suoi demoni. nel 2005 a Paul è stata diagnosticata la schizofrenia e chi ne soffre può soffrire di allucinazioni visive e o uditive e ha un disordine del pensiero che compromette una vita normale. attualmente non c'è una cura certa per la schizofrenia ma ci sono farmaci che possono alleviare e ottenere sotto controllo i sintomi. Io non vorrei parlare oltre della schizofrenia perché non sono una figura professionale. Ciò che vi ho detto fino adesso l'ho tratto dalle notizie riguardanti Paul Paul effettivamente inizia a prendere degli antipsicotici anche questi da prendere regolarmente ogni giorno e fortunatamente i sintomi si sono ridotti e lui ha continuato a vivere una vita normale. Nel 2016 tuttavia si era un po' stancato e voleva un cambiamento quindi ha deciso di andare a Singapore a praticare la sua professione in modo come diceva lui su LinkedIn da condividere la sua esperienza con altre persone. Benché la maggior parte del suo tempo fosse dedicata al lavoro a Singapore incontrerà l'amore della sua vita ossia Cristina Coe lei aveva un baccalaureato in psicologia all'università del Queensland e lavorava come direttrice presso una società di consulenza aziendale con base in America. Si sono sposati l'8 agosto del 2017 ed è stata una giornata speciale per entrambe perché non solo era il loro matrimonio ma era anche il compleanno di tutti e due erano nati lo stesso giorno inoltre per entrambe questo era il secondo matrimonio infatti Cristina dal primo matrimonio aveva anche un figlio Paul adotterà il figlio di Cristina e già nel 2016 postava sui suoi social su Instagram foto con il ragazzo ad esempio scriveva metteva una foto di loro due e scriveva barbecue col figlio oppure aveva messo una foto al ristorante con Cristina e il bambino e scriveva un bellissimo giorno del papà con la mia amata famiglia e appunto ancora prima di sposarsi quindi Paul era diciamo affezionato al bambino e lo trattava proprio come come suo figlio quando Paul e Cristina si sono sposati hanno iniziato a vivere in un appartamento presso l'Espirina Condominium e lì si vedevano spesso in piscina dove si rilassavano stavano insieme erano felici e anche gli amici della coppia diranno di non averli mai visti litigare o di aver notato qualcosa di strano nella loro relazione insomma era un buon legame e le cose andavano bene tuttavia Paul stava nascondendo qualcosa ossia il fatto che la sua schizofrenia si stava presentando nuovamente e che peggiorava di giorno in giorno nessuno sapeva della sua malattia non voleva far preoccupare Cristina oppure magari lui era già in una fase in cui non si non si rendeva conto non si sa le allucinazioni e le voci erano tornate ma si erano trasformate in qualcosa di più bizzarro gli dicevano sempre che doveva salvare il mondo e in più alle volte erano talmente forti da impedirgli di fare quello che doveva fare durante la giornata a differenza di prima le voci gli dicevano che doveva salvare il mondo ma anche che lì non era sicuro che doveva tornare in Australia all'agosto del 2019 Paul ha iniziato a non prendere più i farmaci regolarmente le voci si fecero più forti ed era giunto a un punto di sentirle costantemente le voci che sentiva gli dicevano che Cristina era un demone dentro un corpo umano mandato per distruggerlo e che doveva ucciderla in quanto demone come già detto la coppia litigava molto raramente ma nella notte tra il 2 e il 3 di gennaio ebbero una lite furiosa e non è mai stato detto su cosa stessero litigando ma alcuni giornalisti hanno scritto che fosse a causa delle richieste di Paul di tornare in Australia e la moglie probabilmente pensava che volesse tornare perché l'ex moglie di Paul ogni tanto faceva dei problemi per l'assegno di mantenimento a un certo punto Paul prende una valigia la riempie e esce di casa e si trasferisce nell'appartamento dove soggiornava suo fratello che era andato a Singapore per passare una settimana e che il giorno dopo aveva il volo di rientro per l'Australia quella notte Paul che era nell'appartamento del fratello a letto si sentiva solo non sentiva più le voci ed era pervarso da un profondo senso di colpa quindi alle 3 di mattina manda un messaggio a Cristina scrivendo scusami non mi sento me stesso sono confuso e 45 minuti dopo Cristina sente bussare alla porta e quando apre vede Paul in lacrime accompagnato dal fratello abbraccia il marito e dice al fratello grazie di averlo riportato a casa staremo bene piuttosto tu non hai un volo da prendere domani mattina dice vai a riposarti dopodiché il 3 gennaio del 2020 giorno della tragedia accompagnano il fratello all'aeroporto lo salutano dopodiché vanno a un Catholic Spirituality Center e lì Paul inizia ad avere lo sguardo vuoto gli tremano le mani e inizia a sentire le voci finita la messa si dirigono entrambe verso casa quando Paul nota una persona che faceva jogging che indossava una maglietta con su scritto finisher allora c'era stata una maratona e a tutti quelli che avevano completato il percorso veniva regalata questa maglietta tuttavia nella mente di Paul questo finisher lo leggeva come finish her nel senso di uccidila ammazzala arrivati in casa Paul non ce la faceva più sentiva tutte queste voci all'unisono dirgli uccidila finish her cosa stai aspettando cogli l'opportunità a un certo punto prende i bassoncini cali che il figlio usava per fare arti marziali si avvicina alla moglie e inizia a colpirla Cristina probabilmente gli avrà detto qualcosa ma probabilmente appunto lui era in uno stato in cui nemmeno l'ascoltava mentre Paul la colpiva con estrema violenza con questi bassoni e lei cercava di proteggersi con le braccia con le mani lei ha iniziato a gridare e ha tirato un po' già lì l'attenzione dopodiché riesce a fuggire sul balcone continuando a urlare e quindi diversi vicini l'hanno vista dalle finestre ed era completamente in un bagno di sangue e Paul continuava a inferire su di lei con questi bassoni Cristina ormai era totalmente stordita dai colpi e dalla perdita di sangue Paul si gira si dirige in cucina e va a prendere un coltello dopodiché come le voci gli dicevano di fare la colpisce nuovamente più volte sul collo ad un certo punto Paul sente abbagliare da dietro quindi entra in salotto vede il cane che come vi ho detto era un volpino pomerania bianco di dieci mesi sente la voce uccidilo Paul è un demone che accompagna l'altro se non uccidi lei torna in vita quindi Paul che fa afferra il cagnolino tremante lo tira su con una mano lo pugnala aspetta che muoia e poi esce dal balcone e lo butta giù dal terrazzo liberatosi anche dal cane Paul si guarda in giro prende il cellulare e manda un messaggio al fratello con la scritta è stato fatto adesso non si capisce perché abbia mandato questo messaggio e se forse avesse la sera prima detto qualcosa al fratello riguardo al fatto che volesse tornare in Australia intanto tanti vicini avevano chiamato la polizia sentendo le urla di Cristina e altri vedendo quello che era successo sul balcone altri ancora avevano segnalato il fatto di aver trovato un cane morto per strada la polizia arriva suona alla alla porta Paul posa il coltello e va ad aprire la polizia le dice di aver ricevuto diverse segnalazioni per una lite e li chiede se potevano dare un'occhiata all'appartamento Paul non era reattivo era praticamente completamente in pieno delirio ancora un agente gli chiede se avesse capito nessuna risposta la polizia apre la porta e gli chiede ci può dire il suo nome e Paul fissando il poliziotto gli dice il mio nome è Gesù Cristo viene arrestato è imputato per l'assassinio della moglie e poi questo verrà aggiunto anche la crudeltà sugli animali Paul verrà quindi sottoposto a una lunga serie di valutazioni psichiatriche che rileveranno che dietro ai suoi atti ci fosse la malattia durante il processo i risultati di queste perizie fecero sì che l'accusa si trasformasse da omicidio a omicidio colposo e il 24 maggio del 2021 si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 10 anni di prigione dopo questo video vorrei dirvi che non deve esserci nessuno stigma contro gli schizofrenici e Paul era australiano ma i dati di Singapore indicano che una persona su 116 vengono diagnosticate come schizofreniche ed è il disturbo psichiatrico più comune a Singapore e che dal 1990 al 2019 vi è stato un incremento di casi del 24% non non si sa quali siano le cause della schizofrenia se volete potete ricercare voi le cause gli effetti trattamenti eccetera comunque ricordiamoci anche che Paul aveva smesso il trattamento e quando aveva avuto la ricaduta non era andato subito dallo psichiatra per farsi aggiustare la posologia insomma una cosa importante che i medici sottolineano è che le persone che soffrono di schizofrenia è veramente raro che siano persone pericolose ed è molto più facile per loro divenire vittime di violenza che perpetuarla dato che Cristina era morta senza lasciare testamento le sue proprietà avrebbero dovuto essere divise al 50% tra Paul e il figlio di 16 anni tuttavia nel 2022 il figlio ha fatto richiesta che i possedimenti della madre non vengano dati a Paul questo perché il figlio non vuole che Paul traga vantaggio da quello che ha fatto di sbagliato quindi se la causa sarà vincente Paul non riceverà nulla ad ogni modo la causa è ancora in corso e con questo si conclude il caso di oggi che spero sia stato di vostro interesse se trovate questo tipo di casi interessanti potreste considerare di iscrivervi al canale io ad ogni modo vi ringrazio per la gentile attenzione e spero di vedervi presto sul mio canale con un nuovo caso arrivederci